Angela è il vestito di carta di La Dani. Avevo 14 anni, segui le istruzioni, feci tutto per bene, convinta e sicura che quella fosse la formula giusta per la mia felicità. D'altra parte, nel mio estetico mondo su misura non avevo conoscenza di nient'altro, nessun contatto, nessun termine di confronto, nessuna esperienza sul campo. La mia vita fu un flop. Appena fuori, il vestito di carta così scrupolosamente costruito mi addosso si sciolse al primo impatto con una realtà che mi era del tutto sconosciuta e di fronte alla quale mi ritrovai impreparata, nuda e senza capacità di difesa. E quando presi coscienza di avere desideri, sogni e potenzialità ben diverse da quelle che mi erano state instillate in vena come verità assoluta, mi ritrovai spaccata in due. La femmina prevedibile costruita su regole oscure e la donna viva e palpitante ancora sconosciuta, ma era tardi. Il mio treno era già passato e io ero rimasta a piedi.